È la prof della cultura piacentina e ci vorrebbe un'enciclopedia per passare in rassegna tutti gli alti incarichi ricevuti dal direttore artistico dei principali eventi culturali della nostra provincia, legati soprattutto al cinema e al teatro. Tra questi spiccano senz'altro il Bobbio Film Festival di Marco Bellocchio, il Festival del Teatro Antico di Veleia Romana e la rassegna al femminile Pulcheria e tanti altri ancora, risultati frutto di un percorso di formazione intenso. Ero una secchiona, ha confessato Paola Pedrazzini, la piacentina ospite ieri sera a Nel Mirino, la trasmissione condotta dal direttore Nicoletta Bracchi. Tra i progetti ai quali sta lavorando Pedrazzini ci sono ora l'allestimento della nuova stagione 2017-2018 del Teatro Manzoni di Monza, di cui è stata riconfermata la direzione artistica, la progettazione del Festival di Veleia per l'estate prossima, la progettazione del Festival di Bobbio e del corso di alta formazione cinematografica Fare Cinema per Bobbio e la Costituzione della Fondazione Fare Cinema con il Ministero. Proprio l'ultimo prestigioso riconoscimento risale all'inizio di aprile, quando il Ministero della Cultura l'ha nominata Presidente del Conservatorio Nicolini. In questo momento euforica, molto felice, molto lusingata, molto orgogliosa di questa nomina che mi è giunta anche, devo dire, un po' inaspettata. È la prima volta, come giustamente dicevi tu, che affronto un ruolo istituzionale in qualche modo. Solitamente io nel mio lavoro faccio di solito il direttore o il direttore artistico e quindi ha un ruolo molto progettuale, molto operativo. In questo caso invece, come dire, io spero di svolgere al meglio il mio compito, che nell'ambito delle competenze definite statutariamente, però è quello di rappresentare il Conservatorio.